Occorre portare il periodo di residenza in Italia richiesto di immigrati come condizione per l'accesso al reddito di cittadinanza da 10 a 5 anni, un taglio dei tempi il cui costo è contingentato a 300 milioni l'anno, l'intervento interesserebbe 68 mila famiglie. La richiesta arriva dal comitato scientifico guidato da Chiara Saraceno che oggi ha presentato il suo rapporto per la valutazione della misura. Un'analisi elaborata su basi scientifica, detto il ministro del lavoro Andrea Orlando, quello che poi la politica riuscirà a tradurre in concreto è un altro paio di maniche. Spero che il centro-sinistra condivida le proposte.